Un cordiale saluto ed un buon pomeriggio dalla redazione di Firenze Smart in studio Nicola Giannattasio. Sulla A1 per traffico intenso in direzione Roma code tra Firenze Nord e Firenze Scandici e code a tratti tra Firenze Sud e Valdarno. Anche sulla variante di Valico rallentamenti per traffico intenso tra il Vivio A1 variante e Aglio. In direzione Bologna rallentamenti tra Calenzano e Barberino. Sulla A11 per traffico intenso code sulla rampa di accesso per la A1 in direzione Roma. Sulla A11 a causa di un guasto all'impianto l'area di servizio di Migliarino Sud in direzione Firenze è sprovvista di benzina. Sul raccordo Siena-Firenze scambio di carreggiata per lavori tra San Casciano e l'allacciamento A1 di Firenze in Pruneta. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, città metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Vi auguriamo un buon viaggio. Grazie a tutti.